Buonasera a tutti, sono arrivato al punto di fare questo messaggio per il bene dell'Italia, per il bene di Napoli. Ieri è deceduta mia sorella, probabilmente per il virus del CO19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera, nessuno si è fatto avanti. Questo video è molto forte, mi prego di non farlo vedere ai bambini e agli anziani. Io sono costretto con tutto il dolore a combattere questa situazione. Io ho mia sorella nel letto, morta, non so cosa devo fare, non posso darle l'onoranza che merita, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ho contattato chiunque, al momento non faccio nomi, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sto in attesa della risposta del Cutugno dal 118, perché ieri sera, sotto mia forzata volontà, l'ho fatta fare il tampone, perché non lo volevano fare. A me il tampone è stato negato, hanno detto che devono sapere prima se l'era infetta e poi magari lo fanno a me. Io mi sono messo in atto quarantena, oggi potrei andare dappertutto a diffondere il virus se ce l'ho, perché io a mia sorella per tenerla in vita gli ho fatto la respirazione bocca a bocca. E nessuno se ne è fregato, nessuno, le istituzioni, nessuno sta chiamando. La prima è stato il mio medico curante, il medico curante di mia sorella, che se ne è fregata, non è venuto a casa a controllarlo. Mia sorella aveva una forma di epilessia, era un soggetto a rischio e se ne sono fregati tutti. Ragazzi, stiamo rovinati, l'Italia ci ha abbandonato. Diamoci forza l'uno con l'altro, vi prego di diffondere questo video dappertutto. Rendiamolo virare. Grazie a tutti.